Sono Marco e ieri ho incontrato Iole, ho fatto questa esperienza di personal art painting e devo dire che mi ha iniziato a liberare, cioè nel senso io ho passato un periodo abbastanza difficile e grazie a alcune cose che lei mi ha detto, anzi che mi ha trasmesso, ho iniziato a aprirmi, a sentirmi più leggero e devo solo ringraziarla perché forse inizia a vedere la luce di quello che devo fare realmente. Grazie mille. Grazie.